Salve a tutti! Dove siamo? A Tokyo siamo. Andiamo avanti. Di dubbissimo gusto. E come è scritto qua, l'Octoberfest. Guarda qua. Se l'avete a Hiroshima questa qua. Certo, prima di Tokyo. No, no, la Tokyo Tower. Non ce l'avete voi. Salve a Hiroshima Tower. Eh, che è? No, vabbè. Allora, siamo a... Questo è Shiba Kuen. Che è sotto la Tokyo Tower. E c'è questo evento della birra. Che è notoriamente, questi posti sono... Questi eventi sono quelli che io invece rifuggo perché sono troppo pieni di persone. Guarda che non mi sembra che... Ma a me, aspetta, aspetta. Che ancora dobbiamo andare a prendere la birra, eh? Si paga, tra l'altro, 500 yen per entrare. Ma perché a Tokyo sono pidocchiosi e vogliono i soldi, invece a Hiroshima era gratuito l'ingresso. Cioè, c'era tre persone a Hiroshima. Se no, entravano tutti a me. Era più grande quello di Hiroshima. Sì, però vedi qua la gente che c'è. Io lo so ormai che... Qua, per mangiare una salsiccia più a una birra. No, vabbè, forse no, dai. Ascolta, diciamo la foto massima. No, no, metti la te, vai, mettiti te. Guarda bello che viene, vai, mettiti lì, vai. Sì, metti. D'accordo. Va bene, dai, ne ha prendi da bere, dai. Allora, qui è diviso per banchini. Aufbrow, Schneiderweiss, Aufbrow di là. Ognuno fa sia da mangiare che da bere, probabilmente. Anzi, sicuramente. E fa cose diverse. Karlsbrow, dai, scegliete, dai, quello che c'è meno gente. Andiamo là, va, quello che c'è meno gente. E che costa di meno, quello che costa di meno, tra l'altro. E siamo poveri noi qua. Tra l'altro qui mi sporco tutte le scarpe. Io non mi va bene sta cosa. Guai, facciamo il kanpai. Ci ha voluto più per prendere sta birra. Però è buona. Questa è buona. Se ne vai, è buona. Sembra la mia. Eh? No, ma che mi attacchi la lattina. Grande, no, dopo un basso d'astro. Non è male. E poi abbiamo preso anche le sanzicce. Di suino giapponese. Il famoso suino giapponese. Però servite, tutti quelli, a parte quelli alla cassa, erano tutti cinesi, erano? Sì, sì. Di qua c'è anche lo speed group che fa solamente gli intro. Lei ha fatto Van Allen, Jumping Van Allen e Naradouan Bass Dust. Poi anche se vuoi le canzoni, quelle da Oktoberfest, insomma, non mi ricordo. No, anzi, avvero la fatica, però arriva, sicuro. Com'è la sanziccia? Non si sa neanche. Ma quanto si è speso a proposito? Quanto è speso? Allora, 1.600. Sì? Non siamo tedeschi, siamo italiani. Udrici, guardate tutti. Sembra tedesco, ma siamo italiani. Non sono tedesco. Con droni, sì. Perché che canta? Non lo so, sembra... Glenn Johnson. Ah, è quello che suona la tastiera. Ma sai questa? Dai. Ah, questa quando avevo i capelli, che suonavo la chitarra in un gruppo... Parliamo di quanti anni fa? 20 anni fa. La facevamo, questa è Narcotic Dei Liquido, sono tedeschi, quindi... Quando avevo 22 anni, questa la facevamo. Ciao, mammo! Altra birra... Vedi la ricchezza di chi paga in contanti, vedi? Questa è la don... No, io ho preso la Donato. Ho preso io? La Donato? La Donato. Che stai riprendendo? Quella ragazza lì che beve questa birra interessante. È interessante, è alta un metro di birra. Un metro di birra. Un metro di birra. Guarda che roba. Comunque, è bella, eh? Bella, è bella. 333 metri sono le donne. Sì, 15 metri più alta del... 345 mi sa. Comunque va bene, torna lì. Costruita con l'acciaio di rimessa dei carri armati di guerra di Corea. Guarda bella che è. Sai dove andiamo adesso? Dove andiamo adesso? Caro Tomate. Dove andiamo adesso? A bere il caffè? Dove? Da un cornazionale. Andiamo a prendere il caffè da Peppe Napoli Stacca. Stacca. Dove tra qualche giorno poi vado a mangiare. Tra l'altro, vogliamo dirlo, è arrivato a livello mondiale, è stata nominata la pizzeria numero 20... 23. 23 a livello mondiale. Sì, la miglior pizzeria, la ventitresma pizzeria più buona a livello mondiale. Esatto, al mondo. Guarda qua. Oh, bella la Tokyo Tower. Guarda quanta gente che c'è ancora. Sì, di solito questa... Bella gente, bella gente, sì. Bella, bella. Sudato, tra l'altro. Sudatissimo, sono proprio fradice, sono proprio sudato fradice, sudato fradice. Perché nonostante sia... Sai che... Andiamo di qua. Sì. In Italia, che sono stato in Italia dieci giorni, la sera comunque sia... Si sta benissimo. No, dovevo mettere il giubbottino. Faceva fresco. Faceva fresco. Cioè, qui la festa della birra, anche qui c'è. La festa dell'eyeball qua. L'eyeball, sì, è vero. L'eyeball, whisky, soda e rock'n'roll. Sì. Quello buono, sì. Ti quadrami la schiena? Comunque... Sì, ma non sei tanto sudato, eh? Anche non è stata la maglietta verde. Cosa me ne frega di mostrare il sudore? Mostro le mie alete di pollo. Bella. Andiamo da prendere il caffè da Peppe. Il caffè è diventato un assaggio di dolci. Si è trasformato. È tornato un assaggio di dolci. E poi io torno a mangiare qui mercoledì, quindi farò il video anche mercoledì probabilmente. Bella vita, chi mi ha dato la finale? Due parole per finale, che poi dopo, tanto mercoledì, vengo qua insieme a Fran... No, anche te, dai, a me. Che bufà? Abbassi il livello del video almeno, no? Io abbassi il livello del video. Sì. Che bufà? Che bufà? Peppe Napoli stacca, che è qua. Che bufà? Appena tornati. Appena tornati, sì. Tutti ingrassati da un mese in Italia, sì. O me panza, o me sustanza. Noi siamo qua mercoledì a mangiare insieme a Francesco per l'ambasciata e ci vediamo al prossimo giorno in Giappone. Grazie Peppe. Ciao, ciao.